Occhio a Palazzo, partito Palazzo, fino in fondo Palazzo, Giulio Cesar. Il cross, palone dentro, sul palo cambiasso, a evitare problemi. Sardegna via, può allargare per Forlán, sono pronti al centro a saltare, Forlán lascia partire il club, Milito! E il Principe non esulta contro il Genoa, ma porta in vantaggio l'Inter. Ma questa è una grande azione Riccardo, veramente. Pronto il brasiliano alla battuta, tocco morbido, va Samuel, sponda, cambiasso, Frey e poi Milito! Stankovic, pallone buono Milito, Milito è uno contro uno, davanti a Sebastian Frey, Milito! Non sbaglia il Principe, 2-0! E non esulta, neanche stavolta. È la stessa identica azione dove poi Carvaj aveva recuperato, una difesa alta, la palla senza pressione, lasciano calciare completamente Milito. Di testa Calazze, deve liberare il Genoa, perfeziona, avveno prova a perfezionare il rinvio Moretti, palla per Lucio, destro dentro e balla per l'alto! Prezzo, volta il Samuel, al trentattesimo, Lucio per Samuel! Riccardo, come abbiamo detto, veramente troppo semplice, la bravura di tutti i giocatori dell'Inter, in questo caso mette una palla invitantissima proprio Lucio. Va Bellucci, il suo cross, pallone dentro, Sculli! È sulla linea, ancora cambiazzo! Sculli rovesciata! 3-1, si rimette in partita il Genoa! Sculli protagonista in queste situazioni. Gole di Moretti, secondo gol in carriera in Serie A per Moretti. Si avvicina Sarate, lancio lungo di Stankovic, al volo a Kivu! Non era facile, è uno schema però. Attacca il Genoa, Mesto, possibilità per lui, cross passo, deviazione Giulio Cesar! Calcio di rigore, secondo Valeri. Fallo di mano di Sanetti, sul colpo di testa di Sculli. Palazzo! Per il 3-2, e il Genoa torna ulteriormente in partita. Bene per Cambiasso, possibilità per lui, buono dribbling! Destro giro! Il pallone che termina largo, bella giocata di Esteban Cambiasso. Ancora Inter però, Sarate, dentro è pronto Milito. Sarate, prova lui, Destro giro! Si inventa il gol! Il primo in campionato con l'Inter! Maurito Sarate, 4-2! Bellucci, c'è possibilità, che palla per Palazzo! Palazzo davanti a Giulio Cesar! Palazzo lo salta, calcio di rigore ancora! Rosso per Giulio Cesar! Gilardino! 4-3, ancora il Genoa! Obi, bel lavoro! Buono il dribbling, cross passo, Guarin! Guarin! Giù, calcio di rigore forse? Sì, calcio di rigore in favore dell'Inter! E arriva un rosso diretto per Bellucci! Milito! 5-3! La tripletta del Principe! Gilardino, sponda, Sculli, possibilità! Ancora rigore! Ancora calcio di rigore! Incredibile questa partita! Novantesimo, Gilardino contro Castellazzi! Gilardino! 5-4! Doppietta per Gilardino, la prima con la maglia del Genoa! Questa per scadere adesso il recupero di 3 minuti! Lucio allarga! Sanetti! Arriva il fischio finale! 5-4 per l'Inter! Comincia!